Il confronto noi ce l'abbiamo sempre con la squadra, con la società, con tutti, a prescindere dai risultati che siano positivi o negativi. È normale che in questo momento particolare abbiamo parlato, ci siamo confrontati, sappiamo che momento stiamo attraversando, che è particolare, i ragazzi stanno cercando di dare tutto come sempre, ma probabilmente in questo momento con tutte queste partite ravvicinate, con rotazioni molto limitate all'osso, stiamo facendo quello che possiamo, ma non basta, sicuramente bisogna fare di più per uscirne tutti da questo momento. In questo momento allenarsi obiettivamente non si può più di tanto perché si gestiscono i recuperi e si cerca di recuperare energie mentali e fisiche. In questo momento stamattina abbiamo fatto un allenamento discreto, ci sono da valutare alcune cose perché insomma ci sono ragazzi che hanno dovuto giocare tanto, però li ho visti compatti e secondo me faremo una buona squadra. Incontriamo una squadra che ha un ottimo allenatore, ha ottimi giocatori, probabilmente meriterebbe di avere qualche punto in più, anche se viene da un buon momento, eccetto l'ultima partita che hanno perso, sicuramente troveremo una squadra piena di motivazioni, ma faremo altrettanto noi perché vogliamo uscire da questo momento, vogliamo ragionare partita dopo partita, sapendo che domani ci sarà l'Udinese, che sarà una partita senz'altro difficile e ostica.